Domus, street vibes, yastradio.com, già sai Non ascolto musica italiana e non l'ho mai ascoltata Musica da ricovero per gente invecchiata E ascolto Domus e le vibrazioni della strada Fallo anche tu, alza il volume finché vibra la casa Vedrai che poi ti svegli cantando domani Classico come il vocalist che urla su le mani Fantastico, di lui i tuoi amici stanno meglio pure loro Yastradio.com, street vibes, questo è il suono